E' giunto il momento di parlare di questa, 3060 Ti. Lo so che ci erano state molte voci, alcuni pensavano addirittura che non sarebbe mai uscita, ma la 3060 Ti è qui tra noi. Questa scheda è una fascia media, ma prende direttamente da salto la parte Ti della 60, immagino poi uscirà anche una 3060, non ho dubbi a riguardo, ed è una scheda veramente molto interessante per chi non voglia comprare una 3070, ma contemporaneamente voglio avere un piano prestazionale molto molto interessante e 8GB di VRAM, perché li include 8GB, che onestamente io inizio a pensare siano un po' il minimo per questa fascia. Se volete un riassunto velocissimo, indovinate, questa scheda è una 2080 Super, praticamente con migliori prestazioni in termini di DLSS e prestazioni abbastanza simili in termini di ray tracing, con qualcosina in più invece nell'ambito della produttività. Onestamente una scheda che secondo me sarà tra le più vendute in assoluto, perché è molto più bilanciata delle altre nel prezzo, è molto più accessibile magari da diverse persone, e oltretutto è praticamente molto molto ideale per chi cerca di fare una build magari per il 1080p 240Hz, il 1440p 144Hz sui giochi un po' più eSports, quindi quelli che sparano un po' più di FPS. Partiamo da uno degli aspetti che mi ha interessato di più al lancio di questa scheda, ovvero le custom, perché come vedrete io sono qui con una custom, in realtà ne ho già un'altra su cui vi porterò un video, forse anche una build molto a breve, dipende da quando mi arriva il case che voglio mettere, perché quel case so che piacerà a molti, e comunque voglio provare a iniziare a fare qualche combinazione per aiutarvi nella scelta, visto che moltissime persone, nonostante il periodo comunque di, diciamo, carestia di componenti, continuano a chiedermi assiduamente quali componenti comprare, quindi personalmente ho pensato di indirizzarvi verso qualcosa, che se proprio non comprerete oggi, magari comprerete un domani, quando tutta la parte hardware tornerà a essere un po' più disponibile. Per quanto riguarda la 3060 Ti, uno dei punti veramente molto molto interessanti è che condivide le custom con le sorelle maggiori. Per esempio qui con la Gaming X Trio potete vedere che è molto 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 simile alla Gaming X Trio che avevamo visto con la 3080, e si porta dietro anche tutto il suo potenziale di dissipazione. Infatti per la maggior parte del tempo questa custom non supera i 1000 RPM, e onestamente penso che sia arrivato il gradino in cui un po' tutte le custom vanno bene, perché non troverete grandi temperature, ma soprattutto neanche grandi potenze da affrontare. Ma a questo ci arriviamo a fine video. Allora, per quanto riguarda questa scheda, devo dire la parte interessante sono sicuramente gli 8GB di VRAM, che la classificano come un'ottima concorrente della sorella maggiore 3070 per chiunque volesse comunque approcciare il PC gaming anche per il 1440p, dove gli 8GB probabilmente rimarranno uno standard per ancora un bel po' di tempo, considerato comunque che questa non la porterei contro il 4K, infatti noterete che nei benchmark che vedremo dopo non c'è assolutamente niente riguardo il 4K, ma semplicemente perché già la 3070 fatica, se non con qualche modulazione, ad approcciare questa risoluzione. Quindi effettivamente ho evitato di massacrarla a vuoto per poi vedere magari 40 o 50 fps scarsi, cosa che assolutamente non è la migliore esperienza possibile. Come anticipavo sulle cast, ho un poco veramente da dire, perché sono letteralmente uguali a quelle delle sorelle maggiori, non le ho avute entrambe sotto mano allo stesso tempo, ma effettivamente non dovrebbero esserci grandi differenze, almeno io non le ho notate, non ho visto nessun particolare che le differenzi in maniera sostanziale, quindi mi esprimo verso il sono praticamente uguali. Oltretutto questa è abbastanza palese perché rispetto alla 3080, questa 3060Ti X-Trio per esempio, tiene delle temperature molto più basse con RPM notevolmente inferiori, quasi la metà, quindi sono praticamente sicuro del fatto che sia letteralmente la stessa cosa in ogni punto, se non qualche piccola differenza magari a livello di parte interna. Ragazzi, prima di continuare con questa parte del video, vorrei fare un ringraziamento enorme a BeQuiet, che è stata così gentile da fornirmi in anteprima il loro Dark Power Pro 1200 Watt. È un alimentatore semplicemente pazzesco, dispone di una quantità di cavi inclusi fuori di testa, sono già slivati singolarmente e in nylon, di una morbidezza e bellezza estetica incredibile, si possono attaccare i pettini e l'alimentatore in sé può gestire un quantitativo di schede video fino a 5 da 2 porte da 8, quindi praticamente ci potete alimentare qualsiasi SLI pazzo vi venga in testa. E oltre questo è un titanium con dentro delle componenti che fuori di testa ho. Molto bene, grazie BeQuiet per questo gentilissimo supporto e tizio che parla, adesso vi rimando al tizio tipo me che parla dei benchmark, vai! So che siete tutti ansiosi di sapere riguardo le prestazioni di questa scheda, ovviamente e giustamente, quindi passiamo direttamente ai benchmark. Per quanto riguarda 3DMark abbiamo i soliti due test, Time Spy più Time Spy Extreme, che vabbè, sono semplicemente due facce della stessa medaglia, e Port Royale che invece ci dà una piccola opinione introduttiva riguardo il ray tracing. Come prestazioni comunque siamo lì dove dovrebbero stare, niente di particolarmente intenso, e sono circa i risultati che si ottengono con una 2080 Super. A seguire Port Royale con i risultati per quanto riguarda invece la prestazione in ray tracing, allora io ve lo dico. Se volete approcciare il ray tracing con questa scheda, bisogna farlo solo sui giochi che possano utilizzare a loro volta il DLSS, perché il DLSS salva praticamente quei 60 FPS che servono per giocare in single player e mantenere comunque fluida la situazione, perché per la maggior parte dei casi in cui ho testato il ray tracing, tant'è che alcuni giochi non li riportero neanche perché proprio non ha senso, effettivamente uccide quasi il 40 o 50% delle prestazioni rispetto a non attivarlo. Ovviamente questo inteso come ad ultra, che per me è diciamo il metodo migliore di apprezzare il ray tracing. Passiamo ai giochi, iniziamo sempre come al solito con Borderlands 3, che ci fa capire che questa scheda è agguerrita contro il 1080p e poi contro il 1440p, prestazione chiaramente inferiore a quella della 2080T, e non male comunque per appunto approcciare i AAA. La stessa situazione in 1440p. A seguire il 1080p Horizon Zero Dawn, dove abbiamo una situazione più o meno simile in termini di FPS, un 1% low, un pizzico più alto, e non troppi FPS di distanza dalla 2080T, è comunque un'esperienza più che godibile. In 1440p situazione simile con comunque un'esperienza più che godibile, anche per questo gioco, nonostante sia un porting un po' particolare. Se riesci a fare 60 FPS su Red Dead Redemption 2, in una qualsiasi risoluzione, domini quella risoluzione. Punto. No, vabbè, comunque scherzi a parte, con i 1080p siamo abbondantemente sopra i 70 FPS, quasi 80, e anche la situazione 1% low è molto interessante. E per quanto riguarda invece i 1440p, approcciamo i 60 FPS, anche se c'è da dire che veramente ho sparato tutto al massimo. Quindi magari togliendo qualcosina, riducendo qualche filtro, o privilegiando un po' di più le prestazioni dalle impostazioni generali, si può ottenere sicuramente un'esperienza più che buona in 1440p, anche con questa scheda. Passiamo un attimino a vedere invece l'ambito del ray tracing. In questo caso non ho testato contro altre schede, perché purtroppo i giochi mi sono arrivati troppo tardi, ma volevo farvi vedere semplicemente il calo di differenza tra un Watch Dogs Legion ad ultra e un Watch Dogs Legion ad ultra con ray tracing ad ultra, senza utilizzare DLSS. Per quanto riguarda l'esperienza a 1080p, più che godibile con 102 FPS tranquillissimi ad ultra, ma se andiamo ad attivare in 1080p il ray tracing ultra, dimezziamo nettamente gli FPS, scendendo a circa 57 e perdendo la metà esatta degli FPS, per quanto riguarda 1%. Ovviamente ragazzi, in questo caso, si possono rimodulare le impostazioni grafiche, si può utilizzare DLSS, si può abbassare il ray tracing. Io personalmente esprimo un'opinione forse un po' controversa, ma il ray tracing di Watch Dogs non lo ritengo forse l'esempio migliore come... non è... allora, è il primo ray tracing in open world, questo è da lodare, però personalmente non ritengo che sia il miglior ray tracing in assoluto, anzi, personalmente non ho notato grandissime differenze nel gameplay tra avere il ray tracing e non avere il ray tracing, pertanto semplicemente evito di suggerirvelo, cioè non è granché. Ho voluto poi fare un ultimo test con il massacratore di schede video, ovvero Assassin's Creed Valhalla ad ultra, in 1080p esperienza più che godibile, con 72 FPS grazie alla nostra 3060T, seguiti da 56 FPS in 1440p, modulandola leggermente sono sicuro che si possa approcciare anche questa risoluzione con la 3060T. Allora ragazzi, che dire di questa 3060T? Onestamente è una scheda molto molto interessante per chiunque stia cercando di fare una build sotto i 1000€, immagino che più o meno le custom si attesteranno sui 500-580€ di range, questa dovrebbe avere un MSRP di 569€, che è tanto ma è anche la loro ammiraglia, quindi tecnicamente è diciamo la più costosa. Come vi ho detto, queste custom sono anche eccessive per queste schede, non che non siano bene, perché praticamente vi fanno tenere le ventole a quello che le 3080 utilizzano in IDOL, cioè 950-965 RPM. Dal punto di vista puramente pratico, sono delle schede molto molto interessanti, come dicevo, per chiunque voglia farsi una build magari relativa agli esports, prendete per esempio un 5600X o un 10600K, lo mettete in combo con questa e avete una build veramente molto molto interessante, con dei consumi comunque non eccessivi. E per quanto riguarda questa custom, intanto che parlo vi faccio vedere a schermo qualche dato relativo alle temperature e alla pressione acustica generata dalle ventole, per farvi capire più o meno quanto siamo vicini ad una 3080 Gaming X Trio. È una scheda che probabilmente sfonderà il mercato, visto che attualmente non c'è una controparte diretta di AMD per quanto riguarda Big Navi, e quindi molto probabilmente le persone in questo momento suppongo vogliano farsi delle build. Questa permette di fare delle build forse sotto i 1000-1100 ce la vedo, ma magari non risparmiando troppo sulle altre componenti che sono comunque molto importanti. È sicuramente un'ottima scelta anche per chi, per esempio, volesse farsi una build da lavoro con 8GB di VRAM. Comunque si lavora piuttosto bene sulla maggior parte dei programmi, considerato che va come forza brutta ad essere non troppo lontana dalla 3070. Poi in caso vi porto dei test di produttività su Ampere per capire un attimino quale scheda sia meglio scegliere, quale abbia il qualità prezzo migliore, bla bla bla. E per quanto riguarda in particolare questa scheda, questa forse la cosa che lodo di più è il fatto di aver introdotto 8GB di VRAM, esattamente come sulla 2060 Super ai tempi di Turing, e questa cosa va ad aiutare molto perché vi dico che in 1440p ci sono alcuni giochi che già si avvicinano pian piano al 8GB di VRAM, oppure comunque in 4K li superano. Certo, in quel caso basta rimodulare un pochettino qualche filtro, ma dato che ci stiamo avvicinando e quando uno compra una scheda non vuole cambiarla magari dopo un anno o due anni con i nuovi arrivi, 8GB di VRAM su questa fascia, considerato il 1440p, possono essere l'ideale. Ovviamente bisogna vedere poi come risponda AMD ad una cosa del genere, quanta VRAM introducano loro, visto che abbiamo visto che per il resto delle schede sono stati molto aggressivi con 16GB di VRAM a partire dal corrispettivo della 3070. Fatemi sapere voi ragazzi che cosa ne pensate della 3060T giù nei commenti, io vi lascio i link come posso, dovrebbe essere acquistabile dalla giornata di domani, quindi tecnicamente non la potete prendere ora che è uscito questo video, quindi tecnicamente non potete prenderla ora che è uscito questo video, e dovrebbe esistere la versione Founders, anche se io ho qui le custom, potete prendere una o l'altra, però dovrebbe proprio esistere una versione Founders simile a quella della 3070. Ragazzi per questo video è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, voi siete stati su Mordentech e noi ci vediamo nel prossimo video. Salamuse!